Buonasera, buonasera a voi. Allora, il caso che andiamo ad analizzare lo dobbiamo analizzare con molta molta attenzione. Allora, la notizia di cronaca è questa. Una tredicenne vola giù dal balcone della propria abitazione e perde la vita. Prosegue la cronaca specificando che per il momento è indagato il fidanzato di 15 anni. E già qui voglio fermarmi un attimino. Come 13 anni? Tra l'altro ho pensato di aver letto male, no? Che era 23enne. Invece quando sono andato a controllare si tratta proprio di una tredicenne. Allora, una tredicenne che ha un fidanzato quasi fisso, non so come dire, riconosciuto dalla famiglia quant'altro. Però ultimamente c'erano un po' di problemi nella coppia. Perché la famiglia era stata costretta addirittura a denunciare il ragazzo perché continuava a importunare la figlia che probabilmente, così dicono le cronache, volesse interrompere questa relazione. Ora, io francamente, probabilmente è vero, sto invecchiando, sono ormai sicuramente anziano. Ai miei tempi le cose si svolgevano in maniera totalmente diversa. Ora, io rimango alibito come sia possibile una cosa di questo tipo. Tra l'altro io ho una figlia di dieci anni e quindi voglio dire, mi faccio dei pensieri, delle idee, no? E io mi dico in questi casi, ma i genitori dove sono? E se ci sono, perché forse in questo caso c'erano, com'è possibile permettere una cosa di questo tipo? Perché in questa società ormai deve andare tutto alla velocità della luce? Perché i ragazzi non possono crescere, non crescono nella loro adolescenza, nella loro genuinità, non crescono in maniera progressiva, vorrei quasi dire? Ecco, io non so voi cosa ne pensate, ma io francamente, una famiglia che accetta che la propria figlia di tredici anni sia praticamente quasi ufficialmente fidanzata. Lasciamo poi stare l'episodio, no? Che poi successivamente questo ragazzo ha dimostrato dei lati del carattere non accettabili, tanto che la famiglia addirittura, si vede che il fatto è piuttosto grave, ha dovuto denunciarlo. Ma inizialmente la famiglia avrà consentito e già questo mi lascia estremamente perplesso, no? Nel tipo anche di educazione. Io poi non entro assolutamente nel merito delle varie ipotesi. Adesso il ragazzo è formalmente indagato e accusato di omicidio, poi bisogna vedere se è stato un accidenti, se ho anche letto suicidio, se ho letto magari un gioco finito male. Insomma, le ipotesi sul tavolo sono tantissime, ma io stasera non mi voglio focalizzare sul ragazzo e sull'eventuale possibile, ma non è assolutamente detto assassino, ma mi voglio focalizzare sulla famiglia, com'è possibile che ci sia una cosa di questo tipo e venga consentita una relazione di questo tipo a 13 anni. Ecco, come sempre in queste circostanze sarò molto curioso di scoprire se sono io ormai all'età della pietra o seppure voi condividete le mie perplessità. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.